Allora, che cosa succede nella nostra psiche quando ci troviamo di fronte ad eventi come quello che stiamo vivendo, appunto la diffusione di un virus incontrollato? Allora, quello che noi stiamo vivendo sicuramente è un momento di grossa difficoltà, stiamo vedendo allarmismo e panico. Questo da dove nasce? Dal fatto che il virus è qualcosa che noi comuni mortali non possiamo vedere perché è molto piccolo. Questo fa sì che sfugga il nostro controllo, alla nostra vista e da lì ci sentiamo impauriti e impotenti. Tutto questo, questa paura e questa impotenza, poi genera ansia e panico. Che cosa ci faccio con queste sensazioni, con queste emozioni? Tre sono le opzioni. La prima, agisco. Esempio, vado a fare la spesa, compro la mucchina, compro la mascherina, perché se faccio ho la percezione di poter tenere sotto controllo questo virus e quindi abbasso i livelli di panico e di ansia. Seconda cosa, posso far finta che non esiste, no? Che non esista, quindi la svaluto, no? Anche un po' in maniera imprudenziale. Terza cosa, quello che ci posso fare è mi blocco. Se percepisco dei livelli di panico e di ansia molto, molto alti, una reazione naturale è quella di bloccarsi. Mi chiudo in casa. Altra cosa che facciamo, lo facciamo tutti, l'ho fatto anch'io, è quella di parlare, parliamo, parliamo di sto coronavirus, no? E quindi, perché ci serve a sentire un po' il mezzo comune, ma il comune è mezzo gaudio, no? Il problema che cos'è? È che in questo sovraccarico, anche ossessivo, alla ricerca ossessiva di informazioni, aumenta il livello di rabbia e di panico, no? Quindi la rabbia qual è? Avrebbero dovuto fare questo! Se avessero fatto questa cosa, a quest'ora non saremmo qui, no? Quindi è tutto un modo, anche la rabbia e l'odio, è un modo per dividere le parti, no? Noi siamo i buoni e gli altri sono i cattivi. L'invito è quello di uno. Fermiamoci. Sembrerà banale, ma respiriamo. Se io respiro, entra più ossigeno. Sembrerà, guarda, banalissimo, ma entra più ossigeno. Se entra più ossigeno nel corpo, entra anche nel cervello. E quindi posso ragionare e ascoltare le informazioni ufficiali, no? Le indicazioni ufficiali. Ci vengono date perché noi possiamo fare due cose, anzi tre cose importanti. Uno, proteggerci in una maniera adeguata, sana. Proteggere gli altri, ok? E tre, se tutti quanti le rispettiamo, collaboriamo. Perché in questo modo possiamo chiudere questa esperienza del coronavirus il prima possibile. Anche questo sembrerà banale, ma questa esperienza finirà. Per cui alla luce di questo, l'invito è quello di continuare la propria vita.